Il pubblico delle grandi occasioni ha fatto da cornice alla bella prestazione di Italian Football League, la seconda divisione nazionale, fra i Trappers Cecina e i Grizzlies Roma, che si è conclusa 25 a 7 per i padroni di casa. La squadra Rosso-Blu ha inaugurato nel migliore dei modi il nuovo campo cecinese e tornerà a giocare il 5 maggio per lo scontro al vertice contro i Vipers Modena. Una grande prestazione e poi soprattutto era bello iniziare a giocare qui a casa a Landfield, un campo che grazie al comune di Cecina abbiamo potuto usufruire di questo nuovo campo che è quasi con regolamento ufficiale. È stata una bella esperienza, una bella giornata perché tutte le persone che sono venute qui, quasi 300 persone che sono venute qui a Cecina a vedere la partita, hanno potuto sfruttare di una bella partita, di una bella giornata di football. Soprattutto anche i ragazzi che di solito hanno meno spazio, hanno potuto avere l'opportunità di giocare ed è anche per noi allenatori stata la possibilità di poter provare cose nuove, sapendo comunque che l'avversario era un avversario ostico, ma comunque un avversario di bassa classifica ci ha dato la possibilità di poter dare un po' più spazio anche ai ragazzi che solitamente nelle partite più difficili, soprattutto la partita scorsa contro le Auguri, non hanno giocato tanto. La rotazione è infatti servita a testare la forma dei giocatori più giovani, su cui la società ha un progetto preciso. Dal nostro arrivo il nostro obiettivo era quello di creare un settore giovanile nei quali tra persone non hanno mai avuto un futuro, perché alla fine è importante se vogliamo costruire un progetto a lungo termine, averci dei giovani che possiamo costruire a nostre margini e somiglianza per far sì che nel futuro più vicino possano arrivare la prima squadra. Da quando siamo arrivati qui a gennaio abbiamo iniziato a lavorare con tutte le scuole superiori e le scuole medie, abbiamo avuto l'opportunità di lavorare con circa 4.000 ragazzi che sono di qui sul campo, abbiamo già 25 bimbi che si allenano nella scuola, bimbi e bimbe, e quindi piano piano stiamo creando qualcosa di grande qui a Cecina perché vogliamo portare i trappers fino alla prima divisione l'anno prossimo. E il lavoro da fare c'è, ma serve tempo prima di vederne i risultati. La preparazione noi abbiamo iniziato a stabilirla e mettere le basi già da ottobre e novembre quando noi abbiamo firmato per venire qui a Cecina, il fatto che noi comunque eravamo ancora in Spagna ha fatto sì che non potessimo lavorare al 100% con i ragazzi e abbiamo iniziato a lavorare proprio full time da gennaio. E' comunque un lavoro a lungo termine, c'è tanto da costruire, soprattutto da inserire una mentalità che prima non c'era perché comunque gli allenatori che c'erano prima sono persone che lo facevano part time, noi ci dedichiamo a fare questo professionalmente e quindi dobbiamo mettere anche un tipo di sistema, un tipo di mentalità nuova. Siamo contentissimi con il lavoro che hanno svolto i ragazzi, abbiamo 50 ragazzi nella prima squadra che è un roster considerevole calcolando il campionato italiano di seconda divisione e niente, c'è tanto lavoro da fare e continueremo a lavorare su questa strada per portare i trappers il più lontano possibile. Prossima gara? Prossima gara, 5 maggio contro i Vipers Modena, una gara importantissima, ci giochiamo il primato in classifica e la squadra che vince già praticamente avrà un piede nei playoff. Al momento i trappers sono primi in classifica, a pari merito con Modena e Ferrara. Su 5 gare disputate ne hanno persa solo una, quella contro i prossimi avversari dei Vipers, con cui si giocheranno il primato in classifica. Abbiamo vinto la settimana scorsa contro i vice campioni d'Italia che sono le Acule Ferrara e lì a Ferrara loro non perdevano dal 2022 se non sbaglio, quindi abbiamo fatto una bella impresa e questo dimostra il valore vero di questi trappers. Quella è stata una defiance che ancora ad oggi ci portiamo sulle spalle e stiamo lavorando per far sì che durante il 5 maggio, quando vengono qui a casa, possano trovarci un'altra squadra. L'appuntamento è dunque per le 15 di domenica 5 maggio sul campo di Via Aldomoro.